Il Comitato 89 è un comitato orizzontale e come tale, lavorando su normative che vengono utilizzate poi da tutti i comitati di prodotto, ha varie occasioni di rapportarsi con il mondo dell'industria che sono essenzialmente legate ad azioni di supporto, come il Comitato 89 viene svolto in questo momento, l'industria ha delle domande specifiche sui metodi, sulle normative messe a punto da noi, comeppure può dare un supporto notevole a sostegno di quelle che sono le difficoltà stesse che l'industria incontra nell'affrontare il problema della sicurezza, delle apparecchiature elettriche e elettroniche che vengono realizzate. Da un punto di vista dei lavori normativi che noi svolgiamo, noi cerchiamo di creare delle connessioni attraverso per esempio la nomina di liaison member tra noi e i comitati di prodotto in modo tale che si possa avere costantemente la sensazione di quello che sta avvenendo negli altri comitati a livello di esigenze tecniche per poter garantire la sicurezza dei prodotti al fuoco o comunque in situazioni di pericolo di incendio e quindi con questi liaison member praticamente ci rapportiamo per cercare di adattare il più possibile il nostro lavoro a quelle che sono le esigenze dell'industria. Abbiamo negli ultimi dieci anni devo dire fatto un lavoro molto importante soprattutto nell'aiutare il comitato di prodotto degli household appliances, praticamente degli elettrodomestici a sviluppare un problema di sicurezza che si era venuto a creare con l'introduzione di alcune novità normative. Questo perché talvolta l'applicazione delle norme che noi generiamo che sono pensate per degli scopi specifici viene travisato e queste connessioni con il mondo dell'industria ci permettono di intervenire e di supportare nell'interpretazione delle norme e nell'utilizzo delle stesse nel migliore dei modi.